Musica Ci avviciniamo intanto con la squadra al completo, oggi c'è stato il primo allenamento con tutte le ragazze della squadra e questo non è, può sembrare un dato scontato ma non lo è per nulla, ogni anno c'è sempre qualche problema e quindi quest'anno noi ci stiamo allenando bene, le ragazze ci stanno allenando appunto molto bene è chiaro che adesso andremo a fare un torneo dove faremo due partite contro delle squadre della nostra portata ma come ha detto Bellano in presentazione qui non ci sarà nessuna partita che si potrà vincere sulla carta, basta presentarsi La squadra a me piace molto, lo dico sinceramente, piace molto l'atteggiamento che hanno le ragazze perché hanno dimostrato fin da subito una gran voglia di fare e non è nemmeno questo scontato nel senso che stiamo notando una bella applicazione e questo farà la sua parte sicuramente positiva Al di là della forza della nostra squadra c'è da dire che anche tante altre squadre quest'anno sono cambiate molto quindi quelli che troveranno prima un'amalgama, non dico decente ma positiva, buono per vari motivi, per bravura, fortuna, tutto quello che volete saranno quelli che faranno i primi risultati positivi quindi adesso è difficile fare questo ragionamento una cosa posso dire che anche le due neopromosse in ogni caso hanno preso giocatrici di valore e non c'è la squadra Cuscinini ma l'anno scorso se chi ci ha seguito si ricorda c'è stata una lotta fra tre squadre che si è risolta all'ultima giornata quindi voglio dire se tu non giochi sempre veramente con il famoso coltello fra i netti che ormai è un modo di dire che è anche il desueto però è così, tu devi giocare con la convinzione di portare a casa il risultato e di poterlo fare con tutti specialmente all'inizio della stagione grazie